Il premio Fair Play è ufficialmente iniziato, si parte come tutti gli anni, da nove anni a questa parte, con le borse di studio. Perché questa avvicinanza soprattutto al mondo della scuola ai giovani? Io sono sempre stata dell'avviso, come io e tutto il comitato organizzatore, che il premio Fair Play è lo strumento per divulgare dei messaggi positivi attraverso il riconoscimento a grandi campioni e se si vuole fare questa azione di educazione e di sensibilizzazione bisogna farlo con i giovani, quindi bisogna entrare nelle scuole, cosa che noi abbiamo fatto da nove anni e l'essere così vicini al mondo dei giovani, farli lavorare in gruppo per temi come l'etica, il Fair Play, la lotta al bullismo credo che sia un buon punto di partenza e anche un buon inizio per il nostro obiettivo. È un piacere vedere come con tanto impegno abbiano lavorato a temi importanti come il bullismo, il rispetto delle regole e non in ultimo ragazzi che sono stati in grado di coniugare eccellenti prestazioni sportive con altrettanto eccellenti prestazioni nello studio e nell'impegno scolastico, quindi un bellissimo modo di inaugurare questa 22esima edizione del premio Fair Play Menarini che appunto con le borse di studio ci dà proprio il senso di quanto lo sport sia significativo nell'etica e nel vivere civile nel vivere insieme nella comunità scolastica in particolare e con le nuove generazioni che davvero dalla prima elementare fino alle scuole superiori ci hanno dato tutto il senso della buona volontà e dell'impegno. Sei riuscita a coniugare i titoli sportivi con i buoni risultati tra i banchi di scuola? Sì, ci sono riuscita, infatti richiede sacrificio ma quando ti piace una cosa il sacrificio poi appunto dà anche buoni risultati che ti soddisfano. Io sono della società Algetrusca Atletica e sono specializzata nei lanci, però ho ottenuto dei buoni risultati sul disco e sul giavellotto quest'anno. Sul disco ho raggiunto la misura di 31,35 e nel giavellotto di 36,84.